Torniamo a parlare di Huawei, oggi conosceremo meglio lui, ovvero il P40 Lite. Un ampio display, un occhio che ci guarda, ben 4 fotocamere posteriori e un comparto hardware veramente ben messo. Si parla di un ottimo Kirin, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria, ovviamente dual SIM. E allora cos'è che manca a questo Lite? Ah sì, i servizi Google. E adesso per riassumere tutta la recensione vi faccio vedere cosa significa. Sì, mancano i servizi Google! Mancano i servizi Google, è una tragedia! In questo clima di schizofrenia io direi che si può partire con la recensione completa. Ed eccoci qua ragazzi con il nuovo Huawei P40 Lite. Guardate un po' tutto schermo, pochissimi i bordi con una selfie cam che ci guarda in un occhietto spostato a sinistra. Una selfie cam da 16 megapixel, un display da 6.4 pollici, full HD+, IPS, LCD. Mi sposto sul posteriore per farvi vedere una fotocamera racchiusa in questo mega oblò. Una fotocamera quadrupla, 48 megapixel aperture 1.8, 2 megapixel macro, 8 grandangolare, 2 megapixel per il bokeh. Tutte queste fotocamere non so mai a quanto possono servire, quanto possono giovare nella foto finale quando avete visto i Google Pixel con una fotocamera fanno veramente bellissime foto. Ma vabbè, più ce ne sono meglio è. Continuiamo a parlare di processore Kirin 810, un processorone a bordo di questo smartphone. 6 GB di RAM, 128 GB espandibili con nano memory card. Eccole qua le prime immagini del menu. Un menu che ci fa vedere gli aggiornamenti. Sì, arrivati alla Emotion UI 10.01, quindi una delle ultime versioni rilasciate sul mercato. Ovviamente Android 10 a bordo di questo smartphone. Smartphone che ha le gesture, ma io preferisco usare i tastini virtuali. Home indietro multitasking, molto reattivo. Se non vi dovessero piacere, le gesture potrebbero fare al caso vostro. Le trovate qua in navigazione di sistema, provare le gesture, ma anche no. Quindi con gli swipe torniamo indietro, oppure uno swipe dal basso verso l'alto. Torna sempre alla home. Multitasking, mi fermo al centro e richiamo tutte le varie paginette. Un processore quindi bello aggiornato, bello performante. La RAM è tanta, la memoria è tanta, è anche espandibile. C'è il dual SIM, 4G+, la connettività. Insomma ragazzi, non manca praticamente niente. Continua la carrelata. In basso, porta di tipo C, 2.0, ingresso per le cuffie, altoparlante, mono, accensione, blocco, sblocco. E qui c'è un tastino incavato. Questo tastino, oltre ad accendere e bloccare il telefono, serve anche per rilevare la vostra impronta digitale. Quindi basta appoggiare il dito, non c'è necessariamente bisogno di schiacciare e questo rianimerà il telefono. Il telefono si può anche rianimare semplicemente portandolo dritto sulla superficie, lo vado a guardare e questo si sblocca. Quindi lo sblocco con il volto funziona molto molto bene sempre di giorno, la sera fa. Un po' di fatica. NFC presente, Wi-Fi dual band, non c'è il LED di notifica, ragazzi. Abbiamo un frame che contorna questo telefono realizzato in plastica, ma la cosa bella è che dietro abbiamo una back cover in vetro, logo Huawei ovviamente presente e tutti i vari loghetti che stanno a farvi vedere l'intelligenza artificiale con la quad camera. Nuova interfaccia Emotion UI, quindi con sé arriva anche la modalità scura, la classica modalità scura che va a cambiare, a invertire il colore dello sfondo menu che passa dal bianco al nero e quindi le scritte vanno in bianco invece che in nero. Ma il dunque di questa recensione è il seguente. Questo telefono non ha i Google services, non ha tutti i servizi Google, in soldoni ragazzi. No YouTube, no Gmail, no Play Store e la mancanza del Play Store fa sì che non possiate usare alcune applicazioni. Come si ovvia a questo problema? Trovate nello smartphone TrovApp, trovate l'AppGallery e da TrovApp e dall'AppGallery potrete risalire anche a APK Pure. Quindi questo è il trio dell'Ave Maria che vi servirà per dimenticare i servizi Google. In sostanza l'AppGallery contiene un po' tutto quello che c'è da scaricare, ovviamente Whatsapp è presente, non vi dovete preoccupare, è presente Telegram, quindi le applicazioni fondamentali per i social ci sono. Ma ad esempio un'applicazione come potrebbe essere Instagram, vado a cercarla in TrovApp e mi dice ad esempio dove posso andare per installarla, quindi clicca per installare e mi apre Amazon App Store. Un altro esempio, Whatsapp, quindi Whatsapp posso risalire al file di installazione passando dall'AppGallery, quindi vado a interpellare l'AppGallery che mi rimanda automaticamente via browser al sito di Whatsapp e da lì scaricherò l'AppGallery. Cosa succede però in questo caso? In questo caso alcuni servizi come può essere Mappe, come può essere YouTube Studio Creator che è fondamentale per me o per chi possiede un canale YouTube per monitorare domande, interventi, monitorare il traffico e correggere i vari video. Ecco qui, se vado ad aprirlo, vedete il programma non funziona perché manca proprio il Google Play Service. Altro esempio ragazzi è YouTube. Vado ad aprire l'applicazione YouTube e in questo caso anche se ho scaricato la pick up YouTube non funzionerà perché non ha, non vede i Google Services. Di conseguenza cosa si fa? Si va a cercare YouTube sul TrovApp e quindi si scrive YouTube, si fa la ricerca, cercato YouTube ci dirà semplicemente che dobbiamo andare a cercare l'applicazione sul web e quindi dovremo usare il browser che ci riporterà a YouTube. Una volta visto YouTube ragazzi possiamo semplicemente aggiungerlo alla schermata home e in questo caso io l'ho già fatto, ho YouTube, eccolo qui, però è semplicemente un collegamento. Quindi quando io devo vedere YouTube con questo telefono devo passare sostanzialmente da un collegamento creato tramite browser. Stessa cosa per Instagram, guardate qua. Ma tuttavia sono riuscito a portare l'appk di Instagram sul telefono. Molti appk vengono letti e quindi Instagram è doppio sia in versione browser sia in versione appk. Mentre per altre applicazioni come potrebbe essere per dire Maps, anche qui si può bypassare, si può installare mappe con l'appk ma nuovamente Maps lo ripeschiamo da un collegamento al browser. Non ripescherete in questo caso la cronologia e i backup che avete fatto dai precedenti dispositivi, non ripescherete la cronologia nemmeno su WhatsApp perché non avendo i Google Play Services attivi non rileggerà il backup che avete fatto sulla vostra mail precedente che c'era nel vecchio telefono. Quindi attiveretesi WhatsApp ma vi ritroverete WhatsApp vuoto. In conclusione non si può utilizzare nemmeno Android Auto e non si può utilizzare nemmeno il mitico Google Play perché anche lì si tratta di Google Play Services. Tutto quello che potrete fare è andare sull'App Gallery, andare a cercare un po' quello che vi interessa, semplicemente anche qua su potrete scrivere Telegram. Quindi vedrete Telegram c'è, vi propone già l'apertura, però alcune applicazioni non sono presenti. Detto questo vi ho spiegato un po' l'alternativa al Google Play Services, spero di essere stato abbastanza chiaro. Andiamo avanti nella recensione, non voglio tirarla tanto per le lunghe. Batteria 4200 mAh con questo caricatore in dotazione 40 Watt, questo caricatore riesce a erogare. Quindi in soldoni questo telefono in 30 minuti si ricarica del 70%. Veramente impressionante. Manca la ricarica wireless, manca la ricarica inversa. Quanto dura la batteria? Vi faccio vedere gli screenshot della durata. Durata pazzesca perché mancano i Google Play Services e qui troviamo una batteria vincente. Si può utilizzare il telefono con una sola carica per due giorni continuativi. Sono riuscito ad arrivare a 7 ore e 7 minuti di schermo acceso, quindi si superano le 7 ore di display acceso. Ed è veramente una bellissima notizia, proprio perché mancano quei servizi Google che vi consumano tanta tanta energia. Parlando di fluidità, vi dico che questo Kirin 810 è perfettamente riuscito. Vi faccio vedere i punteggini di Antutu Benchmark e Geekbench 5, punteggini che non sono affatto male. E parlando sempre di fluidità, vi faccio vedere il classico gioco Asphalt 9, un po' come gira. Andiamo un po' a sfruttare un po' il processore e vedete ragazzi, l'animazione è già partita, non ci sono lag in questa animazione, tutto fila molto liscio. Vediamo, si parte, molto soddisfatto, non ci sono lag nell'animazione né durante la gara. Questo ci fa capire come il processore Kirin senza quei servizi di Google sia veramente ben ottimizzato grazie anche a tanta RAM, 6 giga, ve lo ricordo. Memoria infinita, questi 128 pure espandibili. Vi parlerei anche di l'ABC, dei social, come girano i vari social, quindi il Facebook, apri, chiudi, torno indietro, vado a commentare una notizia, una immagine. Quindi vi fate anche un'idea della tastiera, di come funziona la parte social e apro anche Instagram, Instagram con la possibilità di creare storie. Torno indietro, chiudo, vado nel mio profilo. Mi sembra che a livello di fluidità ci sia poco, poco da dire. Tutto gira molto, molto bene. Audio, audio mono, audio comunque dalla capsula che è anche molto piccola, si sente molto, molto bene. L'audio mono esce da qua, da questa capsula in basso. Passando dall'applicazione musica, andiamo nella mia libreria tutti i brani e andiamo a mettere volume al massimo. Ecco, l'audio, pur essendo mono, è veramente bello alto, bello anche ricco di bassi, non perfetto, che c'entra, è mono. Però è veramente un audio valido, si sente veramente molto, molto bene. Non ci resta che parlare della fotocamera, del reparto multimediale con classiche impostazioni, quindi i filtrini in tempo reale messi qua sulla destra, il flash, l'intelligenza artificiale con i vari settaggi, risoluzione della foto, 48 megapixel con intelligenza artificiale ultra clarity, quindi il top. Per quanto riguarda questa macchina fotografica, 48 megapixel standard, 12 megapixel consigliati, 9 in scala 1 a 1, schermo intero 7 megapixel. Per quanto riguarda i video, vi segnalo la risoluzione massima, 1080p, 30 frame per secondo. Fra le altre modalità, abbiamo ovviamente la modalità ritratto, la mitica modalità per chi fa foto ai soggetti ravvicinati, modalità notte per scattare la sera. Lenti AR, un po' per effettini a bimbo minchia, con occhiali da sole, faccine che sorridono, gattini, orecchiette varie. Nella sezione altro troviamo tutte queste modalità, fra cui anche l'HDR e la super macro. Per switchare fra le varie fotocamere, classica barretta che vi porta da uno zoom di 6x, quindi molto molto vicino, a un'apertura ampia per sfruttare la lente grandangolare. E andiamo a vedere come vengono le foto su questo P40 Lite. Partiamo un po' da grandangolare di giorno, passiamo poi alla massima zoomata, quindi 6x, per poi passare alla modalità normale. Un po' per farvi capire come scattano le varie lenti. Da vicino con una buona luce, anche se siamo nell'ombra, i risultati sono veramente buoni, veramente bella la percezione che si ha di queste fragole. La sera bene, non benissimo, però direi che se si ha la mano ferma, perché ci mette quei 3 secondi per immortalare la foto quando si ha poca luce, però i risultati non sono male. Con grandangolo e senza grandangolo di nuovo, per farvi capire un po' la differenza. Vari scatti con varie angolazioni di luce per finire la selfie cam buona. Per i selfie con condivisione social va veramente più che bene. Appassionati, secondo voi, quanto abbiamo speso? Per portarsi a casa il nuovo Huawei P40 Lite servono 299€ che, dette così, fanno capire un rapporto qualità-prezzo non tanto conveniente. 300€ per questo telefono forse è meglio evitarli. Ma se lo acquistate in questi giorni e che abbiamo una promo veramente interessante, allora vi dico, con 299€ avrete Huawei P40, una cassa Bluetooth in regalo e le nuove Huawei FreeBuds 3, che sono degli auricolari True Wireless che costano 135€. In questo caso il rapporto qualità-prezzo schizza alle stelle e allora sì che è un acquisto assolutamente da fare. Perché se togliete i 130€ delle cuffie, questo telefono, cassa a parte, lo paghereste solo 160€. Spero di avervi fatto capire i pro e i contro, di avere perso i servizi Google in questo nuovo Huawei P40 Lite. A questo punto sarete solo voi a capire se questo telefono può fare il caso vostro. Certo, batterie al top, prestazioni veramente ottime ad un prezzo molto contenuto se usate la promo, possono veramente farvi felici. Ma c'è sempre quel ma ragazzi, pensate se potete vivere senza servizi Google. Personalmente la mia risposta è no. Comunque sì, aspetto anche il vostro parere, noi ci sentiamo presto al prossimo video. Iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto. Per i più appassionati di shopping online, vi segnalo gruppo Offerte Smart Italia, sia su Telegram sia su Facebook. E alla prossima, ciao!